Tanti nuovi negozi, tante emozioni in più. Lo shopping del Centro Legrange ti aspetta con ancora più scelta. Una grande galleria specializzata per i tuoi acquisti, con un ipermercato in grande, 8 megastore e 50 negozi. Centro commerciale Legrange, a piedi Monte San Germano, sempre aperto, con orario continuato. Sabato 23 e domenica 24 marzo, Auto Universo Show, la grande fiera dei motori. Legrange, shopping con più emozioni.